Cantiamo tutti! Salsa! 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 A far conoscere la nostra cultura, noi sono instrumenti a piatto, instrumenti a corda, a canto. Pedro Calvatà! Un continuo applauso! Salsa! 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 per cantarlo di nuovo, per cantarlo. a Brindy Steven yae rotino espatino anche lui di Perù lui sicuramente è l'anima del compresso cui è l'anima perche' grandpa e all'energia del ritmo e solo gli instrumenti percussive ola perottimo anche gli instrumenti a piatto Lito Ramos, del Perù, fortissimo claudio Lito Ramos 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 Lito Ramos